buongiorno buongiorno a tutti ciao ciao come stai un po che non ci vediamo tutto bene anche tu hai sempre votato a trump no sempre sempre ci stiamo tutti trasformando da trump io faccio vedere c'è anche un cappello vintage della elezione quella vecchia sì no anch'io anch'io me l'hanno regalato all'epoca della prima elezione quindi sempre stato io ci ritravestiamo da esatto da supporter di trump sempre stato uno nel giro io eh no volevamo esatto a parte gli scherzi volevamo parlare un po delle elezioni americane dei risultati che hanno sorpreso un po tutti e sì anche parlare un po di quello che secondo noi sono le vere cause di questa vittoria inaspettata nei numeri non così inaspettata nel senso che era molto probabile che trump vincesse però non con questa diciamo questi ordini di grandezza e quindi volevamo un po fare un discorso generale sullo stato dell'economia americana sul perché molti elettori americani si sentono insicuri anche con una situazione macroeconomica che apparentemente andava molto bene quindi se uno guarda gli indici della crescita del pil l'inflazione che sta rientrando si sarebbe aspettato da un modello semplicistico che l'amministrazione precedente sarebbe stata rieletta molto semplicemente per per i numeri insomma che si vedevano nell'economia mentre invece allora secondo noi come poi vi mostreremo cercheremo di discutere con voi ci sono delle cause molto più profonde che non derivano da ieri nel senso anche la prima vittoria di trump aveva delle cause profonde e quindi con Gianluca vogliamo un po discutere di questa di questi fatti e di fare un approfondimento su questo allora diciamo che la prima cosa io ho condiviso un grafico su 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 twitter che secondo me spiega molte cose adesso ve lo faccio rivedere poi thomas lo spiego ulteriormente ma diciamo il grafico che io ho condiviso è questo allora questa praticamente è la quota di assets totali che hanno il top 1 per cento della popolazione americana e della linea blu contro il total assets che ha il 40 per cento del centro medio va bene hanno fatta sales zucman ci possono essere dei cavi a sui transfer eccetera eccetera però diciamo si qua si vede chiaramente che a partire diciamo dagli anni 2000 che è quando la cina entra nel wto eccetera eccetera ma poi anche in seguito dalla da lima 2008 eccetera diciamo ci sono due shock esogeni no la cina che entra nel wto che è un labor shock fondamentalmente almeno possiamo ridurlo così poi è un po semplicistica la cosa ma è un labor shock massive labor shock dal lato dell'offerta e poi ci sono le azioni di risposta dei governi alle crisi finanziarie alle varie cose che succedono dopo ora mentre la cina la puoi gestire fino a un certo punto nel senso che è totalmente esogeno da quando la cina entra nel wto puoi farci poco quello che poi succede che le risposte dei governi alle varie crisi non è che questa cosa la corregano anzi l'acquiscono quindi questo è stato il tema di tante cose che abbiamo fatto io e thomas tante presentazioni anche video dove dicevamo sempre che la risposta alle crisi era disfunzionale che avrebbe potuto provocare avrebbe potuto portare dei rischi notevoli perché un conto e rispondere alle crisi un conto poi e usare quel metodo come metodo normale di gestione politica monetaria fiscale e quindi diciamo quello che succede è che secondo me come dice rari in un bellissimo speech che fa dice il partito conservatore è quello che assalta il campidoglio e perché perché come si vede da questa linea nera il partito conservatore c'è poco più da conservare cioè diciamo gli elettori del partito conservatore hanno una nuova costituenza del partito repubblicano diciamo anche la vecchia che ci siano anche dentro delle minoranze etniche che prima non votavano repubblicano diciamo il ceto medio che è stato diciamo il nervo dei partiti conservatori ovunque che soffre in america di questo tipo di dinamica ma non solo in america francamente non ha più diciamo i valori dei partiti conservatori anzi è il partito che vuole cambiare le cose magari anche un po violentemente diciamo però non è più il partito conservato cioè non ha più i valori del partito conservatore e questa cosa qui è una cosa che diciamo le azioni dei governi secondo me delle banche centrali hanno acquito non non hanno smussato questa forbice che si è creata l'anno l'hanno aumentata detto questo adesso magari thomas vi fa vedere sì no allora tu hai fatto vedere la distribuzione della ricchezza come hai detto ci sono molti cave su come vengono stimati i valori degli asset cioè vabbè senza entrare troppo in dettaglio uno potrebbe fare veramente entrare molto nei dettagli dire no ma qui non è così però essenzialmente questa è la big picture è stata pubblicata da grandi economisti sia americani che europei la big picture è quella che va fatto vedere Gianluca cioè la distribuzione della ricchezza è questa adesso io vi faccio vedere da un altro punto di vista la distribuzione del reddito che è l'altra storia è l'altra storia da raccontare che essenzialmente ricalca quello che Gianluca vi stava facendo vedere allora qui vi mostro essenzialmente due coda una cosa semplice che è il reddito reale dopo praticamente l'intervento del sistema fiscale va con i decili cioè per i decili di di reddito prima delle tasse quindi prendo in considerazione anche quello che è un po la redistribuzione fatta dal sistema fiscale vi mostro praticamente il primo 20 per cento quello più povero ho messo quest'indice sono redditi reali after tax quindi quello che le le famiglie ricevono dopo l'intervento del sistema fiscale sia come benefit sia come tassazione ho praticamente ho indicizzato questa 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 serie storica al 2008 che è la grande crisi finanziaria per il primo 20 per cento della distribuzione dei redditi noi vediamo che il primo per thomas per primo intende il più povero più povero esatto se noi vediamo al 2008 era sotto il 100 dopo praticamente è rimasto attorno al 100 fino al 2020 poi sappiamo che con il covide tutte praticamente le politiche sono state messe in piedi con il covide cash transfer che in america sono state massicce e che poi hanno anche contribuito al fenomeno inflattivo che abbiamo visto poi magari ritorniamo su come la che lo pagano dopo infatti esatto esattamente quindi praticamente dopo nel covide c'è stato questo rimbalzo del reddito reale della prima della della parte più bassa della distribuzione del reddito nonostante tutto noi stiamo parlando dal 2008 di una crescita del 12,8 per cento quindi cosa sarà un per cento annuo una cosa di questo no più o meno vi faccio vedere l'altra che praticamente la la parte medio bassa del della distribuzione cosiddetto ceto medio basso rispetto al 2008 in cui era 100 praticamente anche lì in 15 anni 16 anni siamo arrivati a 108 quindi è cresciuto meno che della prima parte della distribuzione del reddito a dei ritmi veramente che dire che sono insoddisfacenti e dire poi altra cosa che vi voglio mostrare è l'altra se il mio scusate che ho dei problemi con con zoom ma adesso ve lo mostro la parte nella classe media che è questo 40 60 la cosiddetta classe media reale noi prendiamo l'indice dei redditi reali disponibili delle famiglie anche qui nel 2008 era 100 praticamente nel 2023 siamo a 105 è una crescita inesistente praticamente inesistente vi voglio mostrare anche quell'altro che è quello praticamente della classe medio alta non cambia molto non aspettate un secondo eccoci qua non cambia molto questa è la praticamente dal sessantunesimo all'ottantesimo percentile fatto 100 il 2008 siamo a 106.5 quindi praticamente la classe media non ha visto alcun aumento del del reddito reale negli ultimi 15 da 15 anni 6 per cento lo 0.3 compound sì esatto è una stagnazione permanente cioè è una stagnazione permanente cioè inutile che si sta lì siamo nell'ordine della della dell'errore statistico no come ultima cosa vi voglio mostrare i super ricchi parte di distribuzione invece dei cosiddetti più agiati che è questa dall'ottantesimo al centesimo percentile fatto c'è praticamente è come se non avessero subito shock dalla classe dalla 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 crisi finanziaria in avanti che poi è completamente hanno subito uno shock positivo perché da città praticamente fatto 100 nel 2008 l'indice adesso è 160 quindi è cresciuto del 60 per cento allora messe assieme questi due grafici che io ho mostrato e che Gianluca ha mostrato mi pare che l'analisi sia molto semplice l'analisi sia molto semplice perché il ceto medio degli Stati Uniti è molto scontento e risponde anche in questa maniera che alcune volte sembra come posso dire masochista anche per il ceto medio stesso non so se sia così masochista no e il punto allora ecco il punto è diciamo così fammi mostrare una cosa anche che ha fatto ieri John Lefty ed è John Belmardock con il quale non sono sempre stato d'accordo durante il covid ma invece ieri ha fatto vedere un grafico bellissimo che è questo allora la faccenda è che poi questo qui è il primo anno che in nessun caso i governi incumbent sono stati riletti ma il primo anno dal 1910 in cui nessun governo viene mai viene riletto e probabilmente stendendo la ricerca indietro lo diceva lui ieri si va anche al 1800 volendo con la statistica perché anche fino al 1000 da quando ci sono le democrazie diciamo che non è mai successo che gli incumbent government fossero tutti buttati giù ora questo secondo me fa vedere una cosa no siccome anche Trump è parte dei governi che ci sono stati prima non è che lui ha interrotto questo andazzo secondo me è l'indicazione chiara che la gente vota un cambiamento un po' per disperazione un cambiamento che è il che sua cioè qualsiasi sia nella speranza che le cose cambino però poi nessuno ha il capitale politico per andare ad intaccare esatto per andare ad intaccare i rantier o diciamo quelli che hanno una posizione di privilegio anzi cioè la prima manovra che fa Trump è tax cuts cioè non è che allora quello che mi diceva Thomas un po' di giorni fa un po' ridendo è che quel comunista di Roosevelt aveva il marginal tax rate al 75 e Eisenhower l'ho guardato era al 93 cioè e quindi cioè secondo me il tema vero adesso non è se lo dopo dicono che doveva chiamare Roventini non è che per forza è tassare i ricchi eccetera eccetera però tassarli in maniera disproporzionata al 70 per cento eccetera 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 no però è anche ovvio che se tu fai andare i deficit al 6-7 per cento del picco ma gli Stati Uniti adesso ma poi quella roba lì ricade in testa sempre gli stessi cioè è ovvio che poi non ti puoi sorprendere di certi tipi di voto no esatto qui rientra un po' al discorso che abbiamo fatto molte volte forse tra i primi a dirlo guardate che probabilmente con questi grandi interventi durante la pandemia soprattutto negli Stati Uniti dove erano cash transfer perché poi molte volte c'è stata fatta la domanda ma perché secondo voi negli Stati Uniti l'inflazione è esplosa prima prima degli Stati Europei e in maniera differente è perché praticamente la risposta è stata diversa nel senso che negli Stati Uniti hanno fatto dei cash transfer nel senso che praticamente il governo federale scriveva dei check che mandava direttamente nei conti bancari delle famiglie e allora da textbook se uno prende il textbook la banca centrale di fronte a questa espansione fiscale in un periodo in cui si era già recuperato dalla crisi finanziaria la disoccupazione era bassa si era solamente innalzata per un problema congiunturale che era quello del Covid cioè la banca centrale da textbook doveva reagire subito alzando i tassi di interesse mentre invece li ha portati a zero diciamo che Powell ha alzato i tassi con l'inflazione la prima volta dello 0,25 con l'inflazione all'8 eh c'era la famosa discussione che era tutta una cosa transitoria dovuta alla disruption nelle value chains ed è andato avanti a fare QI per un bel po' tra l'altro quindi alzando i tassi da una parte facendo QI dall'altra levi massa metti ma tutto un casino che non si capisce cioè che cazzo alzi i tassi e ti smetti di fare QI ma poi i tassi dovevi alzare i tre punti a quel punto c'erano già i tassi prima l'inflazione all'8 secondo me è una delle cose che sicuramente ha contribuito a uccidere i democratici è Powell cioè che con la sua Dovisness li ha ammazzati perché ha permesso che l'inflazione uscisse dal tubetto che i livelli rifai vedere un attimo uno dei grafici delle classi non ambienti cioè qualsiasi faccio vedere questa qui la parte proprio centrale della distribuzione sì che volevo far vedere una cosa volevo far vedere dal quarantesimo al sessantesimo percentile questo qua eccolo qua volevo far vedere una cosa allora magari anche no mi fai vedere 20-40 scusami 20-40 aspetta sì volevo mostrare una cosa 20-40 volevo mostrare una cosa eccolo qua questi sono redditi reali come facciamo vedere Thomas quindi sono redditi deflazionati per l'aumento dei prezzi però cosa si vede che fino al 2020 diciamo i redditi reali salgono dopodiché l'inflazione riparte nel 2021 gli scappa via l'inflazione perché non alzano i tassi anche per quello cioè non è che adesso le monocausazioni le lasciamo a bagnare no no certamente però Borghi però gli scappa via l'inflazione i redditi reali ricominciano a calare dopo il 2020 no? perché lo vedete lì è quell'ultima fettucina lì che va giù parte del grafico lì cos'è? lì è tra le altre cose la risposta disfunzionale della banca centrale che in nessun modello del mondo neanche quelli di Andrea Roventino se lo prendo in giro così quando ci vede poi mi chiama a me cioè in nessun modello il GSG chiamate come li volete cioè quando c'è un push fiscale l'inflazione rimane a zero in nessuno dei modelli c'è scritto quella roba lì ok? in nessun posto del mondo quando tu fai un push del 20% del GDP cumulato in due anni l'inflazione rimane a zero ok? e lì cioè siccome Paolo sta roba lo sa la sa cioè lui decide di tenere i tassi a zero non ho capito bene perché pensando che l'offerta sia giusta eccetera eccetera però il discorso dell'offerta che sia giusta è un po' come il discorso di metto i tassi e ridomestico le produzioni a parte che bisogna avere a vedere se succede esatto ma anche in quanto tempo succede esatto cioè fanno prima fa prima l'inflazione o fa prima il J-effect del reshoring cioè francamente cioè l'inflazione può salire talmente tanto che la gente non viene comunque anche dopo i tassi a riprodurre a casa tua perché cioè c'è un'inflazione anche un costo del lavoro che cambia perché dovrebbe cioè quindi è tutto secondo me hanno perso un po' la bussa nel 2020 e Powell ed è stato uno dei fattori che ha contribuito a uccidere i democratici perché se vai a vedere in tutte le risposte dei sondaggi la prima lova è il price level esatto questa cosa va spiegata molto bene allora uno pensa che essenzialmente quello che preoccupa molto gli elettori sia l'occupazione o la disoccupazione allora quello è verissimo quando c'è una crisi finanziaria tipo quella del 2008 o come la grande depressione negli Stati Uniti negli anni 30 in cui la disoccupazione diventa un fenomeno di massa però se uno va a vedere quello che le famiglie hanno in mente quando votano la prima cosa è la difesa dei redditi reali perché? perché impatta tutti impatta soprattutto la parte medio-bassa della distribuzione dei redditi però qualsiasi lavoratore si troverà in un momento anche abbastanza lungo a subire degli shock nel proprio budget importanti soprattutto se non ha asset come ha mostrato già Luca per smussare questo per smussare questo shock all'income essenzialmente quello è il discorso quindi quando l'inflazione va fuori va fuori controllo tutti gli elettori si incacchiano cioè c'è poco da fare è una cosa non stata impassissima poi uno degli errori degli economisti ma adesso lo dico bonariamente perché non è che sennò sembra che siamo dei criticoni e basta è di concentrarsi tanto sulla tangente cioè sull'inflazione però sono anche i price level cioè è ok ok che Powell dice l'inflazione sta trendando al 2 e va bene no ma anche perché poi i redditi reali si riportano al livello di prima nel senso se il price level ha un shift verso l'alto cioè i redditi reali non è che si aggiustano in 1 o 2 anni ci mettono 5 o 6 anni a recuperare no è giustamente certo perché altrimenti l'inflazione diventa diventa un processo che si autogenera e non ha senso non ha senso è quello che abbiamo visto anche in Italia negli anni 90 no le famose politiche dei redditi a cosa servivano a tenere bassi i salari reali per evitare che l'inflazione si autoalimentasse no è così e soprattutto e soprattutto quando il price level diciamo così si cumula soprattutto su certe categorie cioè l'inflazione si cumula su certe categorie tipo il food eccetera eccetera che diventa poi difficile cioè che voglio dire ovviamente riguardano soprattutto le categorie a basso reddito no cioè quella roba lì è ovvio che ti aliena i voti per cui cioè benissimo concentrarsi sul fatto che l'inflazione scenda per carità meno male però poi bisogna anche andare a vedere cioè dove è rimasta no perché il fatto che tutte queste categorie di prima necessità una delle cose che discutono in America sempre è il prezzo delle uova che a noi sembra una roba lunare però per esempio le uova sono una componente che insomma la si usa di più non volendo e cioè questa roba qua che sono triplicati dal 2020 cioè sono poi quelle le cose purtroppo che 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 c'è per dire adesso condivido questa roba no adesso mentre ne parlo l'ho ripescato scusami Tom cioè se questo è uno dei problemi no che ovviamente ti aliena l'elettorato no cioè questa è l'inflazione del food esatto esatto UK e in Europa è pure peggio che in US no perché stiamo oltre il 30 in UK 27 28 in Eurozona e più del 20 in US cioè questa roba qui sale ed è una componente di spesa piuttosto elevata rispetto ai redditi disponibili per quella ovviamente quei redditi che ha fatto vedere Thomas hanno già dentro sta roba no nel senso che sono deflazionati però dire la verità guarda per fare i conti bene perché io ho deflazionato per il personal consumption expenditure andrebbe fatto andrebbe fatto un prize un basket che vale per qualsiasi cioè tenendo conto delle però diciamo dai una buona approssimazione anche la tua il consumption share a seconda dei diversi però diciamo che i feni quelli che comprano questa roba hanno i redditi reali che sono i redditi nominali che sono cresciuti molto meno di quel per cui cioè questa secondo me è stato il problema vero e ripeto non è che lo dico solo io se andate a vedere tutti i sondaggi su cos'è che ti ha fatto votare cos'era la tua preoccupazione eccetera eccetera il price level cioè l'incremento accumulato dei prezzi post pandemia è la prima risposta da per tu se poi si cumula quello con le distribuzioni dei redditi che ha fatto vedere Thomas mi sembra che sia chiaro perché tutta una serie di persone ha votato Trump poi questa roba li aiuterà a votare Trump io ho dei seri ducchi nel senso che Trump sia la risposta a sto problema soprattutto se fa le cose che dice però io ripeto su quello tutto insomma sulle cose che ha detto che farà i dazzi e queste cose tu ti senti secondo me lui è talmente imprevedibile che poi dice quelle robe ma magari non le fa neanche no esatto io ho letto un bellissimo commento di David Brooks sul New York Times non è il democratico tipo è un moderato l'ha anche ammesso cioè è uno praticamente di centrodestra come posso dire moderato il tipico moderato che uno inventa in Italia uno di centrodestra lui o Trump lui o Trump David Brooks è uno di centrodestra che però qualche volta ha votato democratico quando praticamente aveva una piattaforma moderata quello che diceva lui effettivamente che non è molto preoccupato da non lo so una cosiddetta deriva fascista dell'amministrazione Trump quanto dal fatto che l'amministrazione Trump come nel primo mandato è il caos totale nel senso che manda messaggi sbagliati qualsiasi cosa faccia quello lì è un po' è imprevedibile quando tu metti incertezza imprevedibilità alle risposte di politica economica non so quanto possa quello è un po' un problema ora vedendo i nomi che girano stamattina lui ha nominato Cifo Staff che è la sua capa della campagna elettorale i nomi che girano per il tesoro sono di Scott Bessent e John Paulson ma magari altri per la Fed Kevin Warsh insomma allora se devo dire è gente più competente del solito di quella che ti aspetteresti da tra poi però bisogna vedere perché è quello lì e magari capito prende e il giorno si sveglia male e ti licenzia capito perché lui è come De Apprentice il governo americano per lui quindi uno dei punti che dice l'editorialista del New York Times che citava Thomas prima è vero nel senso che lui cioè è totalmente imprevedibile su queste cose qua dopo di che io devo dire devo fare un piccolo appunto personale io ce l'ho a morte con quelli della Silicon Valley perché questi qua capito che io la politica no Washington no non mi interessa io il bitcoin il dollaro no eccetera eccetera sono tutti lì che hanno pagato tra un po' tutti quasi Peter Thiel Elon Musk quindi ritorna di i guadagni sono miei le perdite vanno a Washington mi pare di capire perché eh questo è l'altro grande problema di cui hai fatto un bellissimo tweet secondo me ieri mattina in cui discutevi un po' del big corporation in US il potere sì diciamo la concentrazione del potere in mano a pochi no ecco la cosa di cui tutti perché tutti parlando di Milton Friedman nessuno ha mai eh non ha mai letto niente esatto è dunca cioè Milton Friedman è il più grande acerrimo nemico di bitcoin se vedete free to choose su youtube lui viene attaccato pesantissimamente dalle grandi corporation degli anni 70 perché il suo modello è piccola media impresa Hong Kong perché è quello di cui parla lui che è uno stato fondamentalmente mercantile e cioè il punto secondo me è che se cioè la gente di cui si è circondata Trump non sembra volere sconfiggere quel tipo di trend che abbiamo mostrato noi no cioè non sembra volere andare in clash con quel tipo di cosa poi per carità pronto a essere smentito però non mi pare Trump la risposta a quei diverging trends dei redditi della ricchezza eccetera per cui cioè alla fine nel 2020 infatti ha perso anche lui perché quella roba lì non sembrava che la volesse cambiare quindi sono agnostico cioè poi lui non è a me non piace per ogni ragione però se devo fare giudice imparziale mi metto a guardare in poltrone e vedo con il fatto che poi ovviamente sull'Europa ci saranno dei problemi che però l'Europa non fa niente per levarsi magari ne discutiamo un'altra volta un'altra volta sul fatto che Macron ha ragione su tante cose diciamo no ah no scusa ultima cosa ieri è stato bello perché non so se hai visto la conference di Powell la press conference di Powell che ha detto che non se ne andrà anche se Trump gli dice che ha domanda esplicita se Trump la licenza lei se ne va lui da avvocato che si deve essere eletto tutta la parte legale possibile perché Powell è un avvocato e tu se le chiedi di mettersi lui ha detto no e se e se fa la demotion lo rimuove gli ha detto non è possibile quindi e Powell l'ha messo lì Trump esatto guardiamoci questo tra l'altro quindi e secondo me è stato quello che gli ha fatto i più grandi favori perché gliela ha fatta vincere lui le elezioni non tagliando i tassi quindi secondo me Trump dovrebbe fargli una statua a Powell però diciamo adesso questo era il primo che facevamo dopo un po' di tempo non abbiamo fatto video perché l'Europa è stata un flatliner da maggio francamente anche nella politica non è successo un tubazzo non so tu ma non c'era molto da dire per questi mesi adesso corre il rischio di essere un periodo interessante per usare un eufemismo so tu cosa ne pensi da dire vediamo vediamo esatto vediamo nel caos sono sempre opportunità anche nel caos quindi vediamo hai fatto un bel commento trumpista devo dire esatto va bene così con il cappellino va bene magari adesso cercheremo visto che c'è Trump magari ci sarà un po' di roba che si muove fino a gennaio saremo più assidui esatto la prossima la faremo sull'impatto che può avere sulle politiche europee tra l'altro ci sono le elezioni in Germania più o meno snap perché non so se le fanno adesso a gennaio però insomma ci sarà da commentare quindi magari ci vediamo più spesso ottimo grazie mille ciao a tutti grazie mille